dall'esterno del campo di Di Maro a Carciato qui vedete il nuovo store della SSC Napoli davvero molto molto grande rispetto a quelli a cui eravamo abituati gli anni scorsi che poi ovviamente vi mostreremo appena sarà aperto ma vi mostriamo la prima novità intanto passa il sindaco di Di Maro vi mostriamo la prima novità molto carina e curiosa questo treno o meglio un grosso pulmino a forma di trenino che appunto porterà i tifosi dai vari parcheggi fino qui al campo di Carciato per diciamo dare una un'agevolazione a coloro i quali verranno qui al campo ecco qui ovviamente tutto sponsorizzato Trentino qui anche la scritta italiana ed è una prima novità di quelle che appunto vi mostreremo mano mano appena ce ne sarà data la possibilità appena anche lo store che ripeto è qui alle nostre spalle sarà aperto chiudo con scudermi per me abbiamo visto le riviste delle ultime settimane quindi grazie a tutti